Sarà effettuata l'autopsia sul corpo del 55enne morto sotto le macerie di un trullo di una contrada di cisternino a seguito di una violenta esplosione avvenuta domenica 11 agosto in mattinata. L'esame sarà eseguito dalla medico legale Domenico Urso al quale venerdì sarà ufficialmente conferito l'incarico. Nicola Salatino stava trascorrendo qualche giorno di relax, ospite di amici in compagnia della moglie. La donna, che a seguito delle ferite riportate sul 50% della superficie corporea è stata ricoverata nel centro grandi ustionati dell'ospedale Perino di Brindisi, resta ancora in reparto in prognosi riservata. Intanto sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo. Bisognerà risalire alle cause che hanno portato alla terribile deflagrazione. L'ipotesi più accreditata era e resta quella di una fuga di gas. Bisognerà capire però come, da dove e perché la perdita, qualora accertata, sia partita.